Vedo che hai trovato il sacropesco della celestiale saggezza. Oh maestro, mi spiace, credevo fosse un normalissimo pe... scu... Capisco, tu mangi quando sei sconvolto. Sconvolto? Non sono sconvolto, che cosa vi fa pensare che io sia sconvolto? Allora, perché sei sconvolto? Probabilmente oggi ho fatto più schifo io di chiunque altro nella storia del Kung Fu, nella storia della Cina, nella storia dello schifio. Probabilmente... I cinque, caspita, dovevate vederli? Mi odiavano una cifra. Una cifra? Come farà Shifu a trasformare me nel guerriero dragone? Insomma, io non sono come i cinque. Non ho artigli, né ali, né veleno. Perfino mantidi a quelle cosette. Forse dovrei mollare e tornare a fare gli spaghetti. Mollare, non mollare. Spaghetti, non spaghetti. Ti preoccupi troppo di ciò che era e di ciò che sarà. C'è un detto. Ieri è storia. Domani è un mistero, ma oggi è un dono. Per questo si chiama presente.